Le 5 mosse del latino con Cesare, questo è il quinto video di questa playlist in cui mi propongo di darti qualche indicazione sulla strategia migliore da seguire nell'approccio al testo latino. Il livello richiesto di partenza è un livello del latino di seconda oppure un latino del triennio e le 5 mosse sono le 5 fasi fondamentali attraverso cui si passa per riuscire a tradurre nel migliore dei modi un testo latino. Questo è il quinto video dedicato a Cesare. Il passo, eccolo, titolo di riferimento, gli abitanti di Novioduno si arrendono a Cesare, uno dei tanti momenti in cui le popolazioni della Gallia si arresero al condottiero romano. Ma piuttosto ci interessa sotto, come punto di partenza, la considerazione delle 5 fasi attraverso cui passeremo. E la prima che ci attende, e la vediamo subito, è quella dell'analisi del periodo con l'identificazione dei verbi, delle congiunzioni e quindi la tipologia delle proposizioni. Ecco i verbi sono già evidenziati, venissent è il primo che incontro, evidentemente va ricondotto al cum, perché venissent è un congiuntivo più che perfetto, quindi avrò una frase narrativa. Ora, oratum, vicino a venire, è facilmente riconoscibile come un supino, è oro, orare, il verbo di partenza, ed è un supino con valore finale, uno dei modi in cui il latino rende la finale implicita. Oro ut, questo è un ut volitivo, il cui verbo è ignosceret, quindi pregare che, ignosceret, e poi c'è un sue, sueque, il que è un et, et sue vite consularet, quindi sono coordinati, ignosceret e consularet, i due verbi della volitiva sono coordinati da quel que. Ut conficceret è una frase finale, evidentemente il soggetto sottinteso è cesare, come nel ignosceret e nel consularet, poi c'è un erat consecutus, che è un indicativo più che perfetto di consecuor, verbo deponente, e il qua è il pronome relativo, questa è una frase relativa, e poi abbiamo iubet, che è il mio verbo principale, iubet sta qua giù e iubeo si costruisce con l'infinito, conviene sempre ricordarsi di tradurre iubeo con ordino di, questo a prescindere che ci sia l'infinito attivo passivo, qui è passivo perché non è espressa la persona a cui l'ordine è rivolto, altrimenti per esempio avremmo trovato iubet milites arma con ferre, ordina ai soldati, l'accusativo vale come complemento di termine, di raccogliere le armi. Allora iubet regge con ferri, regge produci e regge dari, tutti infiniti presenti passivi. Il verbo dopo è tradita, in cui riconosco una forma di participio perfetto passivo, unito a parte, insieme formano un costrutto a parte, vale a dire un ablativo assoluto, che riconosco perché abbiamo un participio che vale come pericato verbale all'ablativo e un sostantivo che vale come soggetto dell'ablativo assoluto. Poi abbiamo administrarentur e quindi qui devo riconoscere un congiuntivo imperfetto, un'altra frase narrativa introdotta dal cum, poi c'è intromissis, che è un participio perfetto al caso ablativo, quindi un altro ablativo assoluto, poi c'è un conquirerent, che è un congiuntivo imperfetto ed è introdotto dal qui, quindi è una proposizione relativa, a questo punto è la principale del mio secondo periodo, equitatus ostium procul visus est, e poi qui è un pronome relativo che introduce la proposizione relativa il cui verbo è antecesserat. Abbiamo così identificato con la fase 1 quelle che sono le proposizioni, le varie frasi del periodo, a questo punto scendo a occuparmi di ciascuna frase, quindi cum venissent, legati, vale come soggetto, ad eum motta luogo, è rappresentato qui da una persona, exeo oppido è un complemento di moto dal luogo, ut ignosceret ignosco con il dativo, perdonare uno, essere indulgente con uno. È importante, l'ho scritto sotto, verificare in questa seconda fase la costruzione dei verbi. Altro esempio clamoroso, consulo, perché consulo, consulere cambia significato a seconda che sia impiegato in senso transitivo o intransitivo, qui è con sue vite, quindi è consulo con il dativo e vale come provvedere a. Poi c'è ut e i soggetti di ignosceret e consuleret sono evidentemente Cesare, venissent legati, quindi il senso è che gli ambasciatori vengono per pregare che provveda loro. Questo sibi riflessivo e il dativo è riferito agli ambasciatori delle popolazioni appunto che si rivolgono con preghiere a Cesare. Poi abbiamo anche conficceret che è un altro verbo ed è un ut finale, il soggetto è Cesare, ut conficceret res, concludere tipo le operazioni potrebbe essere il senso, le rimanenti operazioni, reliquas, celeritate è un ablativo, celeritas con la velocità con cui, qua è il pronome relativo, erat consecutus è un indicativo più che perfettativo, pleraque mi vale, plerique, plereque pleraque è un neutro plurale, vuol dire la maggior parte delle cose. Poi c'è un iubet con ferri arma, quindi consegnare le armi, producere, produrre, far avanzare i cavalli e poi dare i obsides, consegnare gli ostaggi. Poi c'è l'ablativo assoluto, tradere, parte, vuol dire consegnare una parte, obsidum è un genitivo partitivo, degli ostaggi e cum reliqua administrarentur, governare, amministrare, reliqua come soggetto, è un neutro plurale, un aggettivo sostantivato, le rimanenti cosi, le restanti operazioni. E poi abbiamo intromissis che ha come soggetto i centurioni e pochi soldati. Il qui è interessante perché qui con quirent è una relativa impropria, perché con quirent è un congiuntivo imperfetto e quindi vale come relativa con valore finale. Qui con quirent arma et iumenta. Questo que mi ero dimenticato prima di segnalarlo, lo faccio adesso. Equitatus è il soggetto della principale, è la cavalleria dei nemici, che però in latino è maschile, perché infatti c'è visus est, come predicato verbale proculo è un avverbio, significa lontano. Qui è un pronome relativo antecesserat, è il mio più che perfetto, e ha come complemento oggetto agmen, agminis, la schiera, a cui segue il genitivo vercingeto regis. Ed eccoci dunque con la fase della costruzione, in cui dispongo i termini che ho analizzato finora nell'ordine in cui poi andrò a tradurli. In questa fase è importante che ciò che è sicuro, certo, non venga più toccato, mentre invece quanto magari può sfuggire, che pare ambiguo, magari un dativo, che potrebbe essere anche un ablativo. Insomma, quello che non è sicuro va messo in gioco fino all'ultimo. La costruzione che ho già trascritto, la vedi, è cum legati venissent, ho messo il complemento di luogo, moto dal luogo, e poi quello di moto al luogo, oratum, ut, ho messo il verbo, ignosceret sibi, et consuleret vite sue o sue vite, ut conficceret reliquas res celeritate, qua erat consecutus pleraque, iubet conferri arm, qui invertito soltanto la successione verbo nome, produci equos, dari obsides, parte obsidum iam tradita, ho soltanto spostato l'avverbio, cum reliqua ad ministrarentur, tale quale, come anche intromissis centurionibus et paucis militibus, qui conquirarent, pronome relativo al soggetto, conquirare subito il predicato verbale, arm e tiumenta sono i due complementi oggetti, visus est, messo subito, procul equitatus ostium, perché ho fatto questa inversione, ci ho messo prima il verbo e poi equitatus, perché equitatus è seguito poi dal pronome relativo, e la regola ferrea è che quando c'è un pronome relativo, vada subito messo, subito dopo, al suo antecedente, e quindi visus est procul equitatus ostium, qui antecesserat agmen vercingetorigis. A questo punto la proposta di traduzione, cum legati venissent, meglio che implicita essendo giunti legali ambasciatori, mettiamo esplicita, il cum temporale, dopo che venissent, lo traduco con lo stesso tempo soltanto all'indicativo, dopo che gli ambasciatori erano giunti, dopo che erano giunti da lui gli ambasciatori da quella città, oratum per pregare, per chiedere, ho messo per pregarlo nella traduzione, ut ignoscere psibi, di perdonare loro, cioè di essere indulgente nei loro confronti, e di consulere sue vite, di provvedere alla loro vita, cioè alla loro sopravvivenza, insomma, di garantirli la salvezza, ut conficere et reliquas res, per realizzare le rimanenti opere con la velocità con cui aveva conseguito pleraque la maggior parte dei risultati, degli obiettivi, Cesare, dovremmo mettere il soggetto, ordina di raccogliere armi, conferri arma, di produci equos, di far avanzare, di portare i cavalli, dare i obsides, di consegnare ostaggi. E poi c'è l'ablativo assoluto. Dopo che parte degli ostaggi era già stata consegnata, cum reliqua administra rentur, sarebbe essendo amministrate, essendo eseguite le rimanenti cose, ma dobbiamo esplicitarla, mentre, per esempio temporale, mentre le restanti cose, o mentre il resto veniva eseguito, venivano eseguite le restanti operazioni, un altro ablativo assoluto, introdotti i centurioni e pochi soldati, intromitto, nel senso di introdurre, di far entrare, la lasciamo implicita, oppure la possiamo esplicitare, dopo che erano stati introdotti i centurioni e pochi soldati, e questo che raccogliessero le armi bestiame, possiamo mettere anche come finale, affinché raccogliessero le armi bestiame, visus est procul fu vista lontano la cavalleria dei nemici, cui antecessera, tantecedo precedere, è un più che perfetto, che aveva preceduto la schiera di Vercingetorige. E siamo finalmente arrivati all'ultima delle cinque mosse, ma quella sicuramente più importante, perché dopo aver fatto slalom tra le regole della sintassi della frase, la sintassi del periodo, alla fine, prima di consegnare, di porre termine al nostro lavoro, dobbiamo soffermarci sul senso, cioè dobbiamo ripercorrere il senso di quello che abbiamo tradotto. Che cosa succede in questo testo? Succede che arrivano da Cesare gli ambasciatori di una popolazione che chiedono perdono, che chiedono aiuto, e Cesare, in cambio, siccome deve accelerare le operazioni come il suo solito, allora ordina che si proceda a fare incetta, a raccogliere tutto ciò di cui egli può aver bisogno, armi, cavalli ed ostaggi. Intanto è stata consegnata una parte degli ostaggi, le altre operazioni proseguono e vengono introdotti i centurioni e pochi soldati che vengono incaricati di procedere con la raccolta delle armi e del bestiame. Ed è a questo punto che in lontananza si vede la cavalleria dei nemici e quindi c'è anche la prospettiva minacciosa della schiera di Vercingetorige, anzi, Vercingetorige, questo è l'accento corretto, che sta avanzando.